benvenuti in alfa ve lo dico con la mia nuova arna costa solo 10 milioni 430 mila dire che potete pagare con un minimo anticipo e forme diverse di rateazioni a partire da 270 mila dire al mese che inizia a pagare ben tre mesi dopo l'acquisto e inoltre avrete almeno un milione per l'usato tutto questo presso i concessionari che sfongono questo annuncio arna è il subito alfista